Ciao club, sono in un centro commerciale a San Bonifacio e guardate un po' cosa ho notato passeggiando casualmente davanti a un negozio. È un Deplian che pubblicizza la serata di lunedì prossimo, 4 settembre, organizzata dalla CPL Servizi Ollus. È del nostro film, Rintocchi d'amicizia, appunto, che ho girato, realizzato con i ragazzi diversamente abili della CPL Servizi, la cooperativa. Questa è un'immagine dei colori dell'amicizia e la presentazione che hanno fatto loro recita Rintocchi d'amicizia, si propone di seguire una delle sfide del percorso di un ragazzo del centro di urno, il cortometraggio, il secondo lavoro della trilogia dell'amicizia, diretta e curata dalla regista Salvatore Aiello e segue, a distanza di un anno, i colori dell'amicizia, premiato col terzo posto, concorso alta sequenza, organizzato dal CSI di Verona nel 2016. Beh ragazzi, a questo punto, veneti in generale, veronesi, insomma, ragazzi e ragazze nei dintorni, non avete più scuse, vi aspetto.